buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione di storia oggi facciamo un grandissimo salto indietro nel tempo fino ad arrivare alla roma degli imperatori al tempo della dinastia più famosa e più controversa della storia romana quella giulio claudia ogni volta che parliamo di impero romano anche se abbiamo avuto un sacco di imperatori pensiamo subito a quelli della prima dinastia la dinastia giulio claudia famosa per i suoi eccessi i suoi deliri i suoi atroci fatti di sangue molte volte abbastanza esagerati da una storiografia avversa al giorno d'oggi molti storici per fortuna hanno sfatato certi miti e certi luoghi comuni sorti sui cinque imperatori di questa primissima rush imperiale romana augusto al massimo era un tantinello fissato con la buon costume tiberio non era affatto un depravato caligola caligola che imbarazzo caligola avrà fatto qualcosa di buono credo vabbè e claudio a claudio è stato un uomo di grande cultura non era affatto un idiota e infine nerone è il personaggio grigio per antonomasia ha le sue colpe ma non è stato quel pazzo scriteriato incendiario completamente negato col canto che i romanzi e il cinema si sono divertiti a rappresentare nel corso di secoli e secoli faccio questa doverosa premessa perché ho notato che ultimamente soprattutto nerone è diventato un po un pallino piuttosto sensibile per molte persone quindi per carità ragazzi non non ci dobbiamo azzardare assolutamente a toccare nerone è diventato il beniamino di tutti allora ragazzi io metto un po le mani avanti cercherò di essere il più equilibrato possibile per fare questo video quello che dovrò dire lo dirò basandomi su gli studi che ho fatto sulle riflessioni che ho fatto non farò una canonizzazione una geografia di nerone ragazzi perché proprio non ci sta dirò quello che è giusto dire su di lui e cercherò di dare il ritratto più completo possibile se avete qualcosa in contrario da dire potete sempre dirmelo nei commenti in maniera si spera civile ok bene ho messo le mani avanti perché purtroppo già ho visto un po in giro alcuni nerone stan che ragazzi per carità siamo tutti quanti per la rielaborazione postuma quando ci sta l'importante è che non statiare che non è che non la facciamo fuori dal vaso e non esageriamo vi prego ragazzi non diventiamo dei fan esagetati perché come se stessimo difendendo una boy band moderna allora ok però questo arriverà poi nel corso del video ma a dispetto delle premesse che vi ho appena fatto non è di tutta la dinastia che vi voglio parlare oggi e nemmeno di nerone ma pensi di uno dei personaggi poco noti che si sono ritrovati a vivere in questa storia lunga circa un 60 70 anni una figura qualcuno direbbe trascurabile senza importanza superflua forse non abbastanza scandalosa quanto tutte le altre personalità che l'hanno contornata schiacciandola con la loro sola presenza ma sapete cos'è che ho sempre pensato in un mondo pieno chiassoso quello che più si fa notare è il riservato silenzio ed è anche per questo mio pensiero che ho deciso di parlarvi di questo personaggio in particolare oggi vi racconto la storia di claudia ottavia imperatrice di roma prima moglie di nerone allora di ottavia sappiamo troppo poco per poterci fare un'idea precisa non solo di cosa ha fatto nella sua brevissima vita ma anche di come era lei come persona anche se possiamo farcene un'idea ipotetica andando a leggere tra le righe che i biografi degli imperatori come tacito svetonio cassio dione le hanno dedicato di base ne esce un personaggio silenzioso riservato il prototipo ideale della perfetta donna romana nella concezione dell'epoca l'esatto opposto delle altre donne che hanno costellato la sua esistenza prima fra tutti la sua matrigna e suocera agrippina minore la madre di nerone eppure sembra incredibile che ottavia sia stata questa misera figurina inutile e quasi inesistente perché sono molti gli aspetti dell'ultima parte della sua vita che ci lasciano pensare il contrario come vedrete nel corso della narrazione ma partiamo dall'inizio chi è claudia ottavia o meglio chi è ottavia semplicemente allora claudia claudia ottavia nacque all'interno della famiglia imperiale ed era la prima figlia nata da un'unione che aveva fatto ridere tutta roma quella tra tiberio claudio druso e valeria messalina 50 anni lui 14 anni lei vabbè non dovemo stupirci le differenze di età erano tenute in poca considerazione questo sarebbe durato fin quasi all'ottocento quindi di che di cosa ci stupiamo e chi erano queste due figure proprio agli antipodi lui era il meno considerato di tutta la famiglia giulio claudia anzi era trattato alla stregua dell'ultima ruota del carro persino sua madre antonia minore nipote dell'imperatore augusto quindi stiamo parlando proprio della persona più vicina all'impero che si possa immaginare persino sua madre lo riteneva un uomo a malapena abbozzato un povero idiota gli storici moderni ritengono che ciò fosse di peso dal suo aspetto fisico e da alcuni suoi deficit a quanto pare soffriva di una forma di zoppia la qualcosa veniva accentuata dal suo fisico piuttosto robusto soffriva di una leggera balbuzie e alcuni hanno ipotizzato che soffrisse di quello che oggi conosciamo come morbo di parkinson dal momento che alcune fonti fanno riferimento ad alcuni tremiti inconsulti che aveva a livello delle mani e della testa ma al di là dell'apparenza che lo rendeva agli occhi della sua stessa famiglia e dell'intera roma lo zimbello della dinastia giulio claudia claudio era un uomo molto colto e anche intelligente autore di numerosi trattati di carattere storico e linguistico che purtroppo sono andati perduti salvo alcuni estratti riportati dagli storiografi successivi lei invece la madre messalina appartenente anche lei alla famiglia imperiale era poco più che una bambina all'epoca del suo matrimonio e solo un anno dopo di esso nel 40 dopo cristo diede alla luce la sua prima figlia appunto ottavia probabilmente claudio e messalina con la loro primogenita avrebbero vissuto una vita abbastanza ritirata se varie circostanze di eventi come ad esempio il trovarsi nel posto giusto al momento giusto non avessero reso claudio il nuovo imperatore di roma succedendo a sua nipote caligola infatti dopo l'omicidio di quest'ultimo in seguito ad una congiura di palazzo claudio venne trovato dagli stessi congiurati nascosto dietro una tenda timoroso di fare anche lui una brutta fine venendo invece acclamato nuovo imperatore e al di là di quelle che erano sempre state le opinioni poco generose di cui era sempre stato fatto oggetto si dimostrò un buon imperatore ma se sul piano pubblico si mostrava come un uomo capace intelligente e anche carismatico nel privato era l'esatto opposto troppo sottomesso alle richieste i capricci gli affetti e anche le discordie che avvenivano all'interno del suo nucleo familiare retaggio forse della sua infanzia da emarginato la prima ad approfittarsene fu proprio sua moglie la giovanissima messalina ritrovatasi a soli 16 anni ad essere imperatrice consorte e madre dell'erede legittimo dal momento che un anno dopo la salita al potere del marito messalina diede alla luce il suo secondo figlio stavolta un maschio che venne chiamato germanico ma in seguito alla vittoriosa conquista della bretagna all'epoca chiamata britannia venne rinominato appunto britannico a giudicare dalle fonti dell'epoca possiamo ritenere messalina una madre presente affettuosa come lo fu anche claudio se consideriamo che viviamo in un'epoca dove in famiglia non erano richiesti per forza amore e affetto ottavia e britannico furono dei bambini fortunati non solo per il ruolo di privilegio nel quale si erano ritrovati a nascere ma anche perché erano circondati dall'amore di entrambi i genitori purtroppo non sembra che l'amore fosse presente anche nell'unione matrimoniale di claudio e messalina forse da parte di lui c'era affetto per quella sposa bambina ma messalina era in quella fase dell'età che generalmente viene associata al risveglio dei sensi e alla piena maturità emotiva e sessuale la storiografia l'avrebbe definita un'insaziabile divoratrice di uomini alla stregua di una prostituta infatti è famosissimo la leggenda che la vuole camuffarsi da prostituta indossando una parrucca landosi una parrucca bionda in testa e offrirsi agli uomini nella suburra ma sono storie da prendersi con le pinze e ancora oggi proprio il termine messalina si usa per definire quella che oggi viene definita una donna facile in realtà la storiografia qui è stata abbastanza gonfiata o comunque è stata più crudele di quanto non avrebbe dovuto all'epoca l'adulterio e il libertinaggio era una pratica comune sia tra gli uomini che tra le donne l'importante era parlarne il meno possibile e soprattutto per quanto riguardava le donne mantenere una certa riservatezza e però qua stiamo parlando non di una donna qualsiasi di una patrizia come tante altre in questo caso si trattava di era un caso molto più complicato perché messalina era l'imperatrice consorte la moglie dell'imperatore la sua condotta doveva quindi essere lo specchio di quella del marito e vedere l'imperatrice consorte circondarsi diamanti a volte anche sotto il naso del marito non faceva certo fare una bella figura a claudio che però preferiva bozzare le cose per messalina si complicarono quando iniziò a fare anche il bello il cattivo tempo arrivando anche ad ordinare omicidi di avversari politici o persone a lei sgradite anche questa era una pratica abbastanza comune e seppure più tollerata di una condotta libidinosa non esentava l'imperatrice dal crearsi molti forse troppi nemici l'inizio della fine di messalina avvenne con cioè non è che avvenne coincise con l'entrata in scena di un personaggio che avrebbe segnato per sempre la storia di ottavia e della sua famiglia ovvero il ritorno dall'esilio di agrippina minore sorella del defunto imperatore caligola e nipote quindi di claudio a suo tempo esiliata e separata dal figlio nerone quest'ultimo cresciuto da povera gente agrippina poter far ritorno a roma grazie all'intercessione dello zio imperatore e ricongiungersi col figlio e successivamente cercare di risalire i gradini del potere e fin dall'inizio fece in modo di farsi notare quanto più possibile non sappiamo quanto ci mise di suo agrippina nel complotto che segnò la fine di messalina forse il minimo indispensabile forse anzi non non ebbe nemmeno alcun ruolo fatto sta però che nel 48 dopo cristo un liberto di claudio narcisso acerrimo nemico di messalina accusò quest'ultima di complottare contro il suo sposo per ucciderlo e sostituirlo con il suo nuovo amante gaio silio con il quale si diceva si fosse addirittura già sposata durante una cerimonia dionisiaca in realtà non ci sono prove certe che confermino l'esistenza di un tale complotto e per quanto riguarda il matrimonio tra messalina e gaio silio è molto probabile vista che fosse una semplice cerimonia simbolica all'interno di una più ampia cerimonia che come è detto era di carattere dionisiaco e c'è da aggiungere che narcisso era uno dei nemici più accesi di messalina come vi ho già detto credendo a quanto gli era stato detto claudio ordinò la morte della moglie e dell'amante di lei quest'ultimo preferì darsi la morte piuttosto che rischiare il disonore di una morte appunto disonorevole messalina invece che non voleva morire assolutamente non ci teneva preferiva tenersi questa opzione come ultima spiaggia fece invece il possibile per farsi ascoltare dal marito e discolparsi per raggiungerlo ad ostia dove si trovava in quel momento si mise addirittura alla guida di un carro che veniva usato per raccogliere l'immondizia e portò con sé i due piccoli ottavia e britannico all'epoca rispettivamente di otto e sei anni riuscì a raggiungere claudio e sembrò quasi muoverlo a compassione e probabilmente si sarebbe potuto risolvere tutto quanto in un nulla di fatto ma narcisso capendo bene che in quel momento era vigeva il detto mors tua vita mea se messalina fosse riuscita a ritornare nelle grazie di claudio probabilmente a rimetterci la testa sarebbe stato lui facendo leva sulla debolezza di claudio lo distrasse mostrandogli dei documenti importanti e urlando a gran voce i crimini di cui era stata accusata messalina e nonostante claudio avesse deciso in quel frangente di sospendere l'ordine di morte nei confronti di messalina per poterla ascoltare in un secondo momento al suo rientro da roma in maniera più tranquilla e pacata narcisso decise di di prendere le redini in mano e confermò ai pretoria ai pretoriani l'ordine il primo ordine che ordinava l'uccisione di messalina vistasi perduta e non volendo che i suoi figli ci finissero di mezzo messalina disse addio ai suoi figli e li rimandò alla casa paterna sotto la protezione delle loro nutrici e dei loro precettori ottavia non avrebbe più rivisto sua madre messalina infatti avrebbe trovato la morte per mano dei pretoriani negli orti luculliani e messalina aveva soltanto 23 anni al momento della sua morte e questo era solo l'inizio delle tragedie della vita della povera bambina e molte altre ne sarebbero avvenute e con l'uscita di mezzo l'uscita di scena di messalina fu la volta dell'ingresso a corte di agrippina minore che riuscì ad entrare nelle grazie dello zio imperatore arrivando addirittura a farsi sposare da lui il quale per sposarla varò una legge che consentiva i matrimoni tra zii e nipoti ma la cosa peggiore che agrippina fece fu quella di portare suo figlio nerone davanti agli stessi figli di claudio e in un certo qual modo come dice anche massimo fini nella sua biografia di nerone che io vi consiglio vi lascio ovviamente sempre i link in descrizione in amazon il link amazon in descrizione ve lo consiglio non è che ci fosse proprio all'epoca una legge precisa sull'ordine dinastico il fatto che claudio avesse un figlio legittimo britannico non garantiva quest'ultimo la salita al potere e quindi c'era nerone aveva tutte le possibilità di venire di venire adottato e designato come erede di claudio tranquillamente senza alcun problema e beh non ci voleva neanche troppo impegno alla fine nerone era un bambino bello vivace pieno di salute già agrippina lo aveva fatto notare al suo rientro da roma dall'esilio mentre invece britannico era ancora piccolissimo e soffriva anche di forti attacchi epilettici che rendevano il suo fisico ancora più debilitato molti storici pensano che ciò fosse dovuto al fatto che il padre al momento del concepimento fosse già comunque avanti con l'età probabilmente io non sono un medico non ho competenze in campo genetico quindi non so quanto influisca l'età dei genitori su sui bambini alla loro nascita comunque e poi rimaneva ottavia che beh ottavia era una figlia femmina aveva poco valore dinastico a prescindere l'unico valore di cui era rivestita era l'affetto che il padre continuava ad avere per lei come anche per il piccolo britannico ma e nonostante ciò comunque claudio per il discorso che vi ho detto prima adottò nerone come figlio suo e agrippina decisa a dare quanta più legittimità al figlio per i piani che stava architettando per l'avvenire suggerì al figlio suggerì al ma voglio suggerì al marito al marito zio di far sposare nerone con ottavia e già qui iniziava a sorgere un problema dal momento che i due bambini perché erano ancora tali con nerone che aveva 14 15 anni e ottavia che ne aveva malapena 11 i due erano almeno giuridicamente fratello e sorella avendo claudio adottato nerone e avendo già promulgato una legge che consentiva i matrimoni tra zii e nipoti vararne un'altra che legittimava i matrimoni tra fratello e sorella sarebbe stato un po' troppo con buona pace di jamie e cersei lannister e di tutti i targaryen ok battuta nerda a parte allora per girare questo ostacolo ottavia venne praticamente adottata da un'altra famiglia con la quale rimase per tutto il tempo necessario prima dello sposalizio con il fratellastro e fu così che nell'anno 53 dopo cristo all'età di 13 anni ottavia sposò il fratellastro 17enne nerone in questo modo nerone si trovava ad avere un legame ancora più profondo con la dinastia regnante essendo ottavia una nipote diretta del dell'imperatore augusto ma nei piani di agrippina c'era ancora un piccolo problema ovvero claudio era riuscita a ritagliare un posto importante per suo figlio negli affetti e soprattutto nella dinastia di claudio ma il fatto che lui fosse che claudio fosse ancora vivo al momento poteva al momento in c'è le possibilità di far come dire ma il fatto che il marito fosse ancora vivo al momento al momento in cui le possibilità di far ottenere il potere a suo figlio erano ancora altissime il fatto che claudio potesse vivere ancora degli anni poteva rappresentare un pericolo per i suoi piani a maggior ragione quando si disse in giro si mormorò in giro che claudio avesse deciso di riprendere in mano il suo testamento magari per cambiare un po la linea dinastica per designare come suo erede il figlio britannico al momento che all'epoca aveva 12 anni ma qualora britannico avesse raggiunto la maggiore età probabilmente claudio avrebbe potuto tranquillamente cambiare di nuovo i piani testamentari quindi agrippina decise di agire in fretta avvalendosi di una nota abelenatrice di roma dal nome molto evocativo e molto pittoresco di locusta agrippina riuscì a propinare a claudio del veleno durante un banchetto ma a quanto pare claudio riuscì in un primo momento a salvarsi dal momento che il suo corpo rigettò il veleno l'unico effetto fu una forte scarica intestinale e lasciò l'imperatore più che altro disturbato di stomaco ma agrippina non si diede per vinta durante la notte con la complicità del medico di corte diede una seconda e questa volta letale dose di veleno al marito stavolta uccidendolo definitivamente alcuni resoconti storici dicono che il veleno gli fosse stato fatto ingerire tramite una piuma che il medico stesso gli aveva messo in gola per aiutarlo a vomitare ma come ipotesi sembra abbastanza fantasiosa fatto sta che claudio morì assassinato da agrippina ma la notizia della sua morte venne tenuta segreta per quasi tre giorni e fatta passare per una malattia sì ragazzi danza dei draghi intensi fritz agrippina is the news is the news è l'alice hentai tower veramente ragazzi girando e girando ritroviamo game of thron dovunque ok scusate ogni volta che trovo questi riferimenti al trono al mondo degli acce del fuoco io subito ci tengo a farli notare mi diverto allora quindi siamo ritorniamo ad agrippina con il suo concilio ristretto se il filosofo seneca a franio burro tutti coloro che divenne diventeranno i primi ministri i primi consiglieri del futuro imperatore nerone quindi quella che mentre l'imperatore già stava decomponendosi nella sua stanza agrippina fece mettere in giro la voce che fosse gravemente ammalato e persino ottavia e britannico vennero tenuti lontani da tenuti rinchiusi nei loro appartamenti su ordine della matrigna stessa che voleva salvaguardare la salute dei figli acquisiti e intanto si riteneva stretti se li coccolava li consolava sì vabbè ok capiamo bene li sta proprio consolando proprio con un braccio li consolava i due poveri bambini con l'altra stava mettendo la firma alla designazione come imperatore di suo figlio infatti quei tre giorni servirono ad agrippina e ai suoi complici di far sparire il testamento di claudio qualora fosse stato cambiato qualora ci fosse questo testamento e preparare il giovanissimo nerone al suo futuro ruolo di imperatore a tempo debito venne pubblicamente annunciata la morte di claudio e nerone venne designato come nuovo imperatore in questo modo la quattordicenne ottavia si ritrovava ad essere imperatrice consorte di roma ma questo avanzamento era l'ultimo dei suoi pensieri in quel momento sia lei che il fratellino erano ben consapevoli di cosa era accaduto così come erano consapevoli che erano in balia delle avversità senza il loro padre a proteggerli a gestire il potere de facto in quel primo momento era agrippina che di suo aveva una grande predisposizione al potere nerone invece era abbastanza impegnato a a godersi quelli che erano i privilegi della sua carica in quel primo frangente oltre a godersi la sua amante una liberta di nome atte sì perché anche se lui e ottavia erano sposati non sembra che i due vivessero una normale vita coniugale anzi non sappiamo nemmeno se avessero consumato meno il matrimonio probabilmente sì è probabile ma sembra che per il resto non si intrattenessero né a quanto pare ebbe nerone fu mai tanto disposto a ad avere rapporti coniugali con ottavia gli storici dicono addirittura che nerone provasse addirittura una una versione fisica per ottavia e probabilmente anche lei non è che facesse i salti di gioia all'idea di essere sposata con un tipo incostante e umorale come era nerone a maggior ragione se lui la umiliava pubblicamente preferendo stare in compagnia della sua amante che per inciso era anche una ex schiava non vorrei sembrare un conservatore elitarista sta solo sto solo cercando di vedere le cose nell'ottica di quel tempo ma questioni matrimoniali a parte alla fine nerone iniziò a tirare fuori la testa dalla sabbia a prendere consapevolezza del suo ruolo di imperatore complice anche i suoi consiglieri a franio burro e soprattutto il famoso seneca che di base comunque non non dovevano essere molto ben disposti a condividere la il ruolo di consiglieri con agrippina che più che essere una consigliera voleva essere l'imperatrice de facto de facto di conseguenza anche nerone iniziò a dimostrarsi piuttosto recalcitrante nei confronti della madre troppo attaccata al potere nerone che fece capire fin da subito che non aveva alcuna intenzione di essere una marionetta nelle mani dell'augusta madre ma agrippina da parte sua non aveva intenzione di farsi scalzare così facilmente dal suo ruolo di comando e secondo alcuni storici ma io come dico sempre vi invito comunque a prendere queste notizie con con le dovute pinze sembra che sia fece una mossa azzardata in quel frangente ricordò a nerone che c'era ancora britannico che era ormai prossimo a raggiungere la maggior età quando i fanciuli abbandonavano simbolicamente l'infanzia spogliandosi della toga pretexta per indossare la toga virilis durante le cerimonie dei liberalia e nelle intenzioni di agrippina probabilmente britannico sarebbe potuto essere un imperatore più gestibile sottomesso di nerone questa notizia non lo so mi sembra per quanto possa essere una minaccia non poi tanto velata nei confronti di nerone mi sembra una mossa un po troppo azzardata di certo agrippina non sarebbe stata così idiota da assassinare claudio per mettere poi sul trono il figlio di claudio che tranquillamente avrebbe potuto eliminarla molto più facilmente di quanto avrebbe potuto fare nerone per cui io ci credo un poco mi sembra poco coerente e però gli storici tirano in ballo questa questa voce di corridoio perché manco a farla apposta poco tempo dopo durante uno dei tanti banchetti una sera come un'altra britannico morì nel bel mezzo del banchetto così semplicemente si lasciò cadere sul suo trichinio dopo aver bevuto un calice di acqua tiepida per stemperare il sapore del vino che era a suo troppo freddo a vedere il giovanissimo britannico a casciarsi così di punto in bianco lasciò tutti i presenti congelati in particolar modo ottavia che però apparentemente come non non reagì come avrebbe fatto in altre circostanze perché come riporta lo stesso tacito pur nella sua fanciullesca ingenuità aveva imparato a nascondere il dolore l'affetto e ogni sentimento purtroppo a quel tempo era così se volevi vivere dovevi imparare a dissimulare ma fu nerone a risolevare gli animi dicendo che probabilmente britannico stava semplicemente avendo uno dei suoi soliti attacchi epilettici e ordinò ai servidi portarlo nelle sue stanze dove forse nel tentativo di prestargli i primi soccorsi ne venne accertata la morte venne in poche ore preparato per le esequie e il funerale si tenne quella stessa notte come si sarebbe fatto per un bambino secondo le antiche tradizioni romane e fu ottavia l'unica ad accompagnare la salma del fratello verso la pira funeraria scortata dal minimo indispensabile dei servi atti ai vari procedimenti quando anche le ceneri del fratello vennero sepolte ottavia si ritrovò completamente sola e stavolta davvero qui si apre se non si fosse già capito un un più che legittimo interrogativo britannico fu avvelenato per ordine di nerone gli storici antichi come abbiamo visto dicono di sì gli storici moderni tendono ad escluderlo imputando la causa della morte all'epilessia allora io sinceramente propenderei più per l'ipotesi della morte naturale allora perché allora io ritengo che considerando che molti aspetti negativi del governo di nerone siano stati gonfiati da una storiografia avversa compreso la tradizione cristiana che ne fece una sorta di anticristo e poi considerando anche che molti dei suoi cosiddetti crimini siano stati spiegati e come ad esempio sia stata provata la sua innocenza come l'incendio nell'incendio di roma oggi sappiamo che nerone non fece non fu lui l'artefice dell'incendio di roma non fu lui a causare la morte della sua seconda moglie popea sabina che si dice molti gli storici dicono che la uccise lui in un impeto di rabbia dandole un calcio nello stomaco e procurandole un aborto in realtà oggi è più facile ipotizzare che popea sabina sia morta in seguito alle complicazioni dovute a un aborto spontaneo perché lo stesso svetonio disse che all'epoca della sua seconda gravidanza popea sabina non stava era già malata di suo quindi molti avanzano un'ipotesi più che legittima sul fatto che nerone non abbia in alcun modo avvelenato britannico e considerando tutto ciò io penso sia preferibile che qua prevalga il detto innocente fino a prova contraria anche perché con questo si spiegherebbe anche il perché ottavia in quel frangente non non mostrò alcuna disperazione apparente probabilmente anche lei sapeva che aveva pensato in quel frangente che il fratellino avesse avuto un altro attacco epilettico attacco epilettico che probabilmente in questa circostanza era risultato fatale questo spiegherebbe anche il perché della sua assenza di sentimenti non tanto una dissimulazione per sopravvivere alle insidie della corte quanto semplicemente una cosa che per lei probabilmente era anche abbastanza all'ordine del giorno questa è una ricostruzione fatta sempre dal biografo di nerone massimo fini con il quale io sinceramente concordo però dando questo per scontato dando per scontato la morte naturale di britannico però non si può non considerare che se non fosse morto di morte naturale in quella circostanza anche abbastanza fortuita va detto britannico sarebbe sicuramente morto presto e stavolta sicuramente sarebbe stato assassinato perché era al di là di tutto davvero una minaccia per il potere di nerone successivamente la parte più oscura del 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 regno che fu anche prospero del regno di nerone con lui che uccise molte altre persone che potevano legittimamente soffiare il potere avvennero quindi britannico non appena raggiunta la maggiore età e mancava poco come abbiamo detto avrebbe potuto tranquillamente richiamare a sé i suoi sostenitori persino una grippina che forse non voleva essere scalzata dal suo potere in quel caso anche se ne dubito per le ragioni che vi ho detto prima e nerone in quel frangente lo avrebbe tolto di mezzo in un attimo dal momento che era lui in piena ascesa come avrebbe tolto di mezzo con facilità tanti altri che concorrevano a soffiargli il potere comunque sia andata alla morte del fratellino ottavia si ritrovò completamente sola e il momento in cui la vediamo costernata e incapace di fare alcunché al banchetto mentre vede suo fratello morire per quest'ultimo attacco di epilessia e questo è anche l'ultimo momento in cui la vediamo nelle fonti storiche la prossima volta che verrà tirata di nuovo in ballo dai vari tacito svetonio e cassiodione sarà per descrivere i suoi ultimi giorni di vita ma dalla morte di britannico alla caduta di ottavia passano ben sette anni sette anni che di per sé non sono pochi però sono sette anni di cui non sappiamo nulla di ottavia sette anni che possiamo solo ipotizzare ed è qui che entra in scena quella che è stata la mia fonte primaria per questo video in via del tutto eccezionale ve lo mostro già adesso piuttosto che a fine video come faccio di solito ovvero ottavia la prima moglie di nerone di liliana madeo l'unica biografia esistente a quanto ne so dedicata interamente alla figura di di claudia ottavia che oggi mi dispiace dire che è qua per l'edizione oscar mondadori che mi dispiace che dire che purtroppo è fuori catalogo io vi invito magari a cercarlo sulle bancarelle o su o su su ebay o vi lascio magari anche il link amazon casomai possa diventare disponibile tutto un tratto allora per tornare prima ancora di parlarvi un poco della biografia in sé per sé che su quella sulla quale magari mi soffermerò più ampiamente a fine video allora tenendomi aggrappato a questa fonte primaria ritornando alla storia di ottavia è un po difficile pensare che per sette anni ottavia abbia fatto una vita completamente ritirata fino a prova contraria era comunque l'imperatrice consorte non certo un personaggio di contorno con tutto che c'era agrippina che primeggiava ed era lei la prima donna a corte purtroppo ci mancano le notizie di prima mano su ottavia e la sua vita in questi sette anni da imperatrice consorte almeno di nome se non di fatto dal momento che nerone non sembra che le diede il giusto valore che le sarebbe aspettato se non come moglie dell'attuale imperatore almeno come figlia di imperatori no nerone quando i suoi amici e compagni di notti brave gli fecero notare le le sue mancanze nei confronti delle giovane della giovane moglie lui rispose che ottavia doveva accontentarsi dei dei gioielli e dei privilegi che le dava il suo titolo dimenticano in questo modo che non era lui che dava che era talmente di buon cuore da elargire a ottavia il titolo di imperatrice consorte ma era bensì ottavia che gli dava la possibilità di essere imperatore essendo lei quella maggiormente legata alla dinastia imperiale cosa che nerone fece ben presto a dimenticare a differenza di agrippina peccato solo che non sembra che ottavia fosse una che andasse dietro alle ricchezze materiali e del suo titolo non conosceva alcun privilegio alcun privilegio che non fosse l'essere posta simbolicamente in primo piano durante le cerimonie ufficiali e e della corona conosceva solo le spine come siamo soliti dire oggi ma per tornare al nostro mondo ipotetico provando immaginare come doveva essere la vita di ottavia non possiamo non pensare che lei al di là dell'isolamento in cui era relegata dalla sufficienza con cui veniva trattata da nerone e da agrippina doveva sicuramente avere un piccolo nucleo di affetti una cerchia di persone che tenevano sinceramente a lei e tentavano come potevano di 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 proteggerla dalle amarezze di quella vita troppo crudele per la sua giovanità la prima di questi affetti era sicuramente pitiade la sua nutrice che l'aveva tenuta tra le braccia appena nata che l'era stata vicina in ogni momento importante della sua breve vita come solo una madre può fare che l'aveva sicuramente consolato il suo pianto alla morte inesorabile prima di sua madre poi del padre e infine del fratello e insieme a pitiade c'era sicuramente tutto il suo entourage di schiave e ancelle che al di là della loro condizione dovevano probabilmente nutrire dell'affetto per la loro padrona come avrebbe dimostrato ciò che sarebbe accaduto in seguito ottavia avrà poi sicuramente avuto a che fare con quelle che erano personalità di un certo peso nella roma di quel tempo che fossero i consiglieri principali di nerone come seneca e affranio burro e anche l'amante di nerone la liberta atte che secondo quanto ci riportano le fonti era una donna tenuta in grande stima per la sua saggezza e per il buon ascendente che aveva su nerone tanto che seneca chiese proprio a lei di far notare all'imperatore che avrebbe dovuto darsi una regolata e di non esagerare con i suoi eccessi probabilmente ottavia e atte avranno avuto anche loro modo di vedersi al di là del fatto che non c'era niente che le spingesse ad essere rivali dal momento che ottavia non nutriva sentimenti romantici per nerone e atte non ambiva a soppiantarla dalla sua carica di imperatrice consorte accontentandosi di amare sinceramente nerone come uomo un'altra personalità che molto probabilmente ottavia avrà avuto modo di conoscere ed eventualmente anche frequentare fu pomponia grecina una matrona romana moglie del generale aulo clauzio un generale che si era distinto durante le conquiste in britannia e a corte era praticamente di casa oggi pomponia grecina è famosa principalmente perché secondo alcuni storici si tratterebbe di una delle primissime personalità romane legate alla casa dei cesari che si avvicinò alla religione cristiana che da circa una decina d'anni era prodata anche sulle coste italiche ricordiamoci poi che nella quarta lettera ai filippesi negli atti degli apostoli vengono nominati i fratelli cristiani nella casa di cesare certo bisogna tenere in considerazione molti fattori come il fatto che l'appartenere alla casa di cesare poteva magari indicare gli schiavi non per forza i membri della famiglia imperiale e soprattutto bisogna tener conto della datazione delle epistole o se abbiano avuto aggiunte successive nel corso dei secoli non abbiamo prove certe ma sappiamo che pomponia grecina venne proprio durante il re il governo di nerone venne inquisita su denuncia del suo stesso marito con la per la con l'acusa di superstizio esterna ovvero l'acusa di praticare una religione straniera l'ipotesi che questa superstizio superstizio esterna fosse proprio il cristianesimo deriva dal fatto fosse proprio il cristianesimo deriva dal fatto che nelle catacombe cristiane venne rinvenuta in seguito una tomba dedicata ad un uomo chiamato pompogno grecino il che ha portato a pensare ad un legame di parentela molto probabile con pompogna grecina e quindi una vicinanza di questa famiglia alle sette cristiane alla fine nonostante fosse lui ad aver imbastito il processo fu proprio aulo plauzio a prendere le difese e a discolpare la moglie quindi questo processo per superstizio esterna sembra quasi un tentativo di di aulo plauzio di magari prevenire una possibile accusa da parte di terzi quindi accusare lui per primo la moglie in modo così da gestire la cosa tranquillamente e di scolpare la moglie la moglie pompogna grecina che visse praticamente come una donna ritirata dalla vita e tene sempre un profilo molto basso e oggi viene ricordata proprio come una prima viene associata molto alle prime donne che sono avvicinate al cristianesimo e compare anche come personaggio secondario nel famosissimo romanzo quo vadis appunto in queste vesti quindi è molto probabile che essendo molto vicina anche lei alla corte è probabile che lei ottavia si conoscessero e si fossero anche frequentate certo sarebbe azzardato ipotizzare che ottavia si fosse avvicinata ai cristiani ma considerando un po il suo vissuto soprattutto l'aver visto morire i genitori e il fratello è interessante immaginare una ottavia che prova a cercare una risposta spirituale alternativa alla religione dei suoi padri che contemplava un una punizione dopo la morte per chi non era stato meritevole in vita mentre invece per pure chi era stato meritevole non contemplava praticamente nulla i campi elisi sono praticamente una sorta di limbo un mondo grigio così privo di colori privo di luce di colori e soprattutto se consideriamo che in quell'epoca di un'epoca che ricordiamoci è di grandi sconvolgimenti culturali e sociali ecco erano iniziati a sorgere un sacco di culti che venivano dal per lo più di stampo orientale che contemplavano la vita dopo la morte non solo i culti cristiani ma anche i culti della dea iside i culti misterici dedicati alla dea cerere infatti si dice che la stessa atte per quanto fosse vicina magari secondo alcuni alla setta dei cristiani dopo la morte di nerone sembra che divenne una sacerdotessa dei culti della dea cerere culti che erano molto aperti alle donne a differenza di altri culti misterici come quello del dio mitra che tendeva ad escludere le donne ecco tutto questo rientra in un'epoca in cui le donne iniziavano a a emergere come individui sociali singoli e anche all'interno di un di un universo che magari cercava di trovare delle risposte alternative ai campi elisi del mondo pagano a cercare una risposta ulteriore alla vita dopo la morte ottavia ecco ecco ipotizzare e parlando proprio della della figura delle donne ecco ipotizzare la vita di ottavia nelle fonti che su di lei tacciono è anche un modo per approfondire il vissuto delle donne di tutte le classi sociali dal centro più alto a quello più basso e viceversa della roma imperiale sospese tra la vita domestica ruoli tradizionali come quelli di moglie madre e figlia fino a quelle che più recentemente iniziavano già a permettere una maggior libertà alle donne come il mondo del lavoro nel quale potevano iniziare ad imporsi alcune donne potevano addirittura diventare delle vere e proprie imprenditrici gestendo da sole un commercio altre potevano permettersi la possibilità di studiare e avvicinarsi alla professione medica anche se erano relegate a competenze più femminili come i malesseri che riguardavano principalmente le donne la gravidanza eccetera di tutto questo ne abbiamo fonti epigrafiche tutto questo è riportato proprio da da Liliana Madea in questa sorta di biografia romanzata biografia analitica biografia saggio saggio storico saggio romanzesco eccetera ma basato su fonti ferre e fonti archeologiche precise ecco ottavia e anche per questo ci fa capire anche come mai ottavia sia una figura quasi sconosciuta qua mi verrebbe da citare margherite jorsenar che in appendice al suo famosissimo romanzo memoria di adriano scrisse che lei non avrebbe mai potuto scrivere un romanzo su su plotina la moglie di adriano perché la vita delle donne era una vita segreta una vita ritirata quindi una vita quasi tenuta nascosta e taciuta sulla quale le fonti sono molto poche e possono ridursi a quello che per molti oggi è minimo non c'è abbastanza carne sul fuoco per stuzzicare l'interesse degli storici e dei romanzieri quindi ottavia può aver conosciuto questi diversi aspetti dell'aspetto femminile magari anche attraverso amiche conoscenti donne che venivano a rivolgerle una supplica un aiuto ecco quanto era vicina ottavia al popolo romano probabilmente era molto più vicina di quanto non crediamo visto che nel momento visto che nel momento supremo nel momento estremo di pericolo per lei sarebbe stato proprio il popolino romano a scendere in campo per difenderla dal pericolo quelle che ci siamo poste sono domande legittime sempre considerando quanto sarebbe avvenuto in seguito e perdonatemi se mi ripeto e noi purtroppo possiamo solo ipotizzare e per lo più tenerci queste domande perché le fonti non ci dicono nulla a quanto pare il prezzo da pagare per non essere un personaggio scomodo e scandaloso è quello di finire è quello di finire nel dimenticatoio della storia e arriviamo all'anno 58 dopo cristo anno in cui tutto inizia a cambiare l'anno in cui nerone si innamorò di poppea sabina per ottavia questo nuovo idillio non fu tanto diverso dall'idillio che nerone aveva avuto con atte per cui almeno in quel primo momento a lei poco importò ma agrippina non fu dello stesso avviso dopo i primi scontri all'inizio del governo del figlio agrippina era scesa più miti consigli e sosteneva nerone nella gestione del potere nelle vesti della sua consigliera più presente assieme a seneca e ad afranio burro ma la presenza di una nuova amante stavolta non una liberta come atte che si accontentava di amare nerone semplicemente ma una donna come poppea sabina appartenente ad una classe sociale più elevata essendo figlia di un pretore che ai sentimenti per nerone aggiungeva anche un'aspirazione al potere agrippina iniziava davvero a temere la presenza di di poppea che rischiava di portarle via non solo il figlio ma anche il potere che lui le portava fu in questo frangente che agrippina si finalmente conto dell'importanza della troppo ignorata e bistrattata ottavia ad agrippina era quasi necessario che ci fosse ottavia come donna al fianco di nerone non solo perché ottavia come abbiamo già detto era essendo era lei che dava legittimità al potere di nerone ma anche perché era sicuramente più gestibile più manovrabile all'occorrenza bene ma tenete continuate a tenere a mente sempre questi dettagli mi raccomando sentendosi mancare quindi il terreno sotto i piedi capendo che stava irrimediabilmente perdendo l'ascendente su nerone agrippina tentò il tutto e per tutto pur di non farsi allontanare dal figlio lo storico tacito sempre in vena di notizie più originose sempre da prendere con le pinze si spinge ad affermare addirittura che agrippina avrebbe tentato di sedurre il proprio figlio pur di non perdere il potere il suo ascendente su di lui io come vi ho detto suggerisco sempre di prendere questo fatto con le pinze anche se stiamo parlando di una donna che si faceva pochi scrupoli quando si trattava di potere ma agrippina con la sua ossessività riuscì solo ad accelerare la sua fine che arrivò l'anno seguente quando venne fatta assassinare su ordine di nerone e questo crimine nessuno storico può giustificarlo e lo dice anche massimo fini che ha dedicato la sua vita di studi a a ripulire l'immagine troppo calunniata di nerone e lui stesso il primo a dire che alcuni crimini di nerone non hanno sono non possono essere giustificati su non si può non si può coprirle sotto il tappeto come polvere allora prima nerone tentò di far sembrare la morte della madre un incidente facendo affondare la nave sulla quale agrippina stava viaggiando per raggiungere anzio ma la donna riuscì a salvarsi a nuoto allora nerone si decise a mandare dei sicari ad ucciderla la leggenda storiografica dice che nel vedere i sicari agrippina si sarebbe scoperta il ventre e avrebbe detto colpite il ventre colpite lo stesso ventre che ha generato il figlio che adesso mi uccide con la morte di agrippina ottavia perse paradossalmente l'ultima persona che avrebbe potuto difenderla anche se non per botta d'animo adesso ottavia e non mi l'avrò già detto mille volte era davvero sola dimenticata da nerone che non aveva mai smesso di ignorarla al punto che non si rendeva nemmeno conto di quanto lei fosse amata dal popolo ma intanto le cose andarono avanti come se nulla fosse cambiato per altri tre anni ma nel 62 dopo cristo poppea annunciò a nerone di aspettare un bambino nerone fu felicissimo della notizia ma la sua amante lo fermò subito non voleva che quel figlio fosse un figlio illegittimo dell'amante dell'imperatore doveva essere un figlio legittimo e riconosciuto a pieno titolo in altre parole ottavia doveva sparire doveva in altre parole poppea stava chiedendo a nerone di ripudiare ottavia per sposare lei tecnicamente la situazione era semplice da gestire e da liquidare almeno nei primi pensieri di nerone che pensava che si sarebbe potuto risolvere tutto in poco tempo divorziò apertamente da ottavia adducendo come causa la sterilità della moglie omettendo che i due non sembra che avessero mai giaciuto insieme per quanto se ne sappia il senato comunque concesse il divorzio a nerone libero adesso di sposare poppea e ottavia venne mandata via da roma ed esiliata in una villa in campania sorvegliata vista dai soldati come una prigioniera anche se di alto rango ma le cose si complicarono subito tutto forse partì da quel piccolo gruppo di persone fedeli ad ottavia poi l'onda della protesta e della sommossa arrivò anche dal popolo che chiese a gran voce il ritorno di ottavia ingiustamente calognata e scacciata secondo l'opinione generale gli storici dicono che quando arrivò la la voce falsa che nerone avesse ripudiato poppea e avesse in mente di riprendere ottavia il popolo di roma scese in piazza a festeggiare abbatté le statue di poppea e le sostituì con quelle di ottavia è un po difficile da credere perché è difficile prima di tutto pensare che in poco tempo in pochi giorni già avessero costruito delle statue in onore di poppea e che avessero tolto quelle di ottavia è un po difficile da credere forse un'esagerazione forse non si trattò di statue ma di effigi ma tanto bastò per agitare gli animi di nerone e poppea e infatti poppea che era sicurissima che tutto ciò se si tratta fosse un piano che queste sommosse fossero aizzate dalla stessa ottavia che si stava complottando per prendere il potere e nonostante in un primo momento nerone fu costretto a richiamare ottavia a roma dal suo esilio per acquietare il popolo decise capirono che non bastava semplicemente allontanare ottavia con un divorzio ma bisognava toglierla il prestigio di cui godeva agli occhi di roma allora nerone qui e anche qua massimo fini dice che c'è poco da giustificare qui nerone fece forse una delle azioni più basse del suo regno montò tutta una sequela di false accuse nei confronti della ex moglie la dipingendo ottavia come una degna figlia di sua madre come una ragazza dedita ad ogni vizio la accusò di avere come amante addirittura uno dei suoi schiavi un citaredo di origine egizia di nome eucero cosa intollerabile in una società ancora molto elitaria come era la roma imperiale se ci stava che un uomo potesse avere uno schiavo o una schiava come amante che una donna si potesse concedere a una persona bassa come uno schiavo era una cosa intollerabile a maggior ragione se parliamo della consorte o ex consorte dell'imperatore ma per per dare valore a questa accusa bisognava avere dei testimoni pronti a giurare il falso tra parentesi vennero allora prese tutte le ancelle di ottavia e a furia di minacce e anche di torture vennero costrette a confessare la veridicità delle accuse mosse contro ottavia alcune stremate dalla dalla paura e dalle torture finirono per cedere ma la maggior parte di loro scelsero di rimanere fedeli alla loro padrona e si rifiutarono di confessare questa di dare valore a questa menzogna ma la testimonianza che più fece scandalo e che tolse credibilità alle false accuse di nerone fu quella fu la testimonianza della nutrice di ottavia pitiade la quale incalzata dalle domande del nuovo consigliere di nerone di gellino che le ordinava sotto tortura di confessare che ottavia era un'adultera e una svergognata ebbene pitiade urlò a gran voce tigellino le parti intime della mia padrona sono più pulite della tua bocca volevano abbattere agli occhi di volevano abbattere l'immagine di ottavia agli occhi di roma e paradossalmente avevano finito per elevarla ancora di più agli occhi del popolo che adesso la vedeva per quello che lei era realmente una povera fanciulla vittima della malvagità e dell'egoismo altrui ormai stufo di quella situazione nerone decise di dare un taglionetto alla faccenda come già aveva fatto con sua madre avvalendosi della falsa testimonianza di un suo liberto lautamente pagato ovvero aniceto nerone accusò ottavia di adulterio col suddetto aniceto la accusò altresì di aver abortito più volte per nascondere gli effetti di quella relazione sbugiartando la precedente accusa di sterilità ecco manco a dirlo c'è viva l'ingegno e altresì per me come ciliegina sulla torta l'accusò di star complottando per ucciderlo e prendere il potere praticamente le tipiche accuse di routine quando si voleva togliere di mezzo qualcuno con false accuse tra falsi o vere che fossero e dopo un'accusa stavolta confermata da un lautamente pagato aniceto ottavia viene condannata definitivamente all'esilio a ventotene che tradotto in lingua nostrana vuol dire stai per morire o ti ammazzi tu o mandano i sicari a farti la pelle c'è poco da fare altro che c'è ragazzi altro che vedi napoli e poi muori qua e vedi ventotene poi muori il bello che ventotene pur un gran bel posto vabbè ma ottavia non restò a lungo nel suo esilio a ventotene che aveva già visto molte altre donne della casa imperiale lì esiliate e morte come giulia figlia dell'imperatore augusto e agrippina maggiore madre della più famosa agrippina per evitare che il popolo tornasse a richiedere a gran voce il ritorno della fanciulla troppo amata nerone inviò praticamente subito dei sicari con l'ordine di ucciderla gli uomini le aprirono le vene delle braccia e delle gambe ma il sangue usciva troppo lento come se le si fosse ghiacciato nelle vene per per il terrore e per porre fine a quella lunga sofferenza venne riempita una vasca piena di acqua bollente dove venne immersa ottavia per il calore il sangue iniziò a zampillare dalle ferite aperte e ottavia morì tra i vapori di quel bagno bollente aveva solo 22 anni era addirittura più giovane di sua madre quando anche quella venne uccisa ho notato in giro che ultimamente sta uscendo pure la notizia che nerone non avrebbe fatto uccidere ottavia ma quest'ultima si sarebbe suicidata io per per correttezza sono voluto andare ad informarmi su questa notizia però alla fine ho visto solo che sono notizie emerse da da pagine wikipedia e io wikipedia la devo prendere sempre con le pinze e le fonti si rimandano a un testo che io personalmente conosco poco ho cercato pure informazioni in giro su un testo anglofono e io sinceramente ragazzi quando vedo studiosi anglofoni che si occupano di storia della roma antica metto le mani avanti dite che sono troppo prevenuto ragazzi andatevi a vedere i documentari di history channel su su un nerone proprio vedete quanti bei luoghi comuni e quanto studi approssimativo vi trovate eppure per questo ragazzi non do molto retta questa teoria che vuole ottavia suicidata solo per diciamo ripulire l'immagine di nerone purtroppo anche massimo fini dice che di tutti i crimini di cui nerone fu accusato tutti quanti falsi sicuramente gli unici sui quali non può essere proprio ripulito e sono appunto l'omicidio di sua madre greppina e l'omicidio di ottavia ottavia che di per sé non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi avrebbe potuto vivere tranquillamente come già tranquillamente aveva vissuto per sette anni nell'ombra nel suo esilio a ventotene in piena tranquillità e però invece il fatto che sia stata uccisa è molto più probabile perché nerone aveva visto quanto il popolo amava ottavia quanto avrebbe potuto richiedere a gran voce il suo ritorno e probabilmente anche aizzato da poppea che voleva evitare che magari ottavia potesse o meno aizzare di nuovo il popolo e che ordire con giù e contro di loro alla fine ottavia era preferibile averla morta piuttosto che in esilio per cui io abbraccio l'ipotesi che lei sia stata uccisa bene e con più o meno sappiamo tutti come andò avanti la storia dopo la morte di ottavia il regno di nerone fu sicuramente uno dei più dei più pacifici della storia imperiale sotto il suo regno non ci furono guerre ci fu una certa prosperità ci furono anche dei gravi problemi come il tragico incendio di roma per il quale poi nerone si prodigò per aiutare la popolazione e garantì molto lo sviluppo delle arti essendo lui un grande appassionato del teatro e della musica e venne colpito anche lui in seguito dalle varie congiure come la famosa congiura di pisone fu duramente colpito anche dalla morte di poppea morta come abbiamo detto per complicazioni durante la seconda gravidanza ma anche per la morte della figlia che poppea gli aveva dato con la prima gravidanza morta in fasce praticamente e alla fine anche nerone come i suoi precedenti come gli altri due imperatori che l'avevano preceduto caligola e claudio morì in seguito a una congiura e finì per non trovando il coraggio per uccidersi venne aiutato ad uccidersi da uno degli ultimi fedelissimi che gli erano rimasti e fu la stessa atte la sua amante di un tempo con lei che lo aveva sempre amato forse l'unica donna che lo abbia mai veramente amato si occupò di bruciare il suo corpo sulla pira funeraria e dargli e dargli tutte le onoranze funebri e mi preme solo fa notare che nerone morì il 9 giugno del 68 avanti cristo perché vi dico la data perché quasi per un tragico scherzo del destino morì praticamente lo stesso l'anniversario stesso della morte di ottavia che morì secondo alcuni l'otto giugno per altri addirittura proprio il 9 giugno in uno di quei rimandi eterni della storia come si suol dire e con nerone terminò la dinastia giulio claudia anche se possiamo dire che quella dinastia era già morta il giorno in cui ottavia fu assassinata a ventotene per secoli ottavia sarebbe stato un personaggio del tutto marginale all'interno della storia più ampia di nerone di solito viene solo nominata come una delle tante vittime tra virgolette della malvagità tra virgolette di nerone anche se il tutto andrebbe ridimensionato parecchio come vi ho detto ma nel corso dei secoli non sono mancati autori e poeti che hanno tratteggiato la sua figura già pochi decenni dopo la sua morte la sua vicenda venne narrata in una tragedia di ambientazione latina queste chiamate fabule pretexte ovvero tragedie di di ambientazione latina venne attribuita a seneca ma oggi si sa che non la scrisse seneca dal momento che vi viene raccontata per colpa per bocca del personaggio del fantasma di agrippina con i dettagli esatti viene preannunciata la morte di nerone e nerone non avrebbe mai potuto conoscere questi dettagli dal momento che morì molto prima di nerone ma la particolarità di questa tragedia sta nel fatto che è l'unica fabula pretexta giunta integra fino a noi ottavia poi è anche la protagonista di una tragedia di vittorio alfieri scritta nel 1783 che la rappresenta come la tipica eroina alfieriana innamorata disperatamente di nerone che si toglie volontariamente la vita col veleno per il dolore ed è rifiuto di lui di ricambiarla e il latte mi è sceso alle ginocchia assieme ai miei zebedei ok esiste anche un romanzo poco conosciuto di inizio novecento scritto da seymour van santford mai sentito che si intitola octavia a tale of ancient rome ottavia un racconto dell'antica roma un'opera di completa fantasia che rappresenta un'ottavia convertitasi al cristianesimo con tanto di innamorato e amici fedeli al seguito praticamente un uno di quei tipici romanzi peplum che tanto andavano di moda all'epoca sulla falsa riga dei vari cuova adis fabiola o la chiesa delle catacombe eccetera per quanto riguarda il cinema non sembra sia mai stata rappresentata almeno per quanto ne so l'unica rappresentazione fino ad ora per quanto sempre per quanto ne so rimane quella data nella fiction rai in due puntate del 2004 ovvero nerone su appunto la figura di nerone dove ottavia è interpretata da vittoria puccini allora purtroppo questa fiction cercando di dare un'immagine di nerone esageratamente positiva stravolge completamente la storia di ottavia che ci viene mostrata come una ragazza innamorata perdutamente di nerone al fieri docet che nerone che divorzia da lei per darle la possibilità di trovare il suo vero amore seriamente ragazzi una battuta da da te novella si dice ti prego cerca di capirmi io lo faccio anche per te perché voglio che tu abbia la possibilità di trovare un amore perché io quest'amore non te lo potrò mai dare nerone santo subito alzo le mani e alla la manda comunque in esilio a bentotene non si capisce bene perché è proprio a bentotene lei alla fine si ucciderà gettandosi in mare dopo aver saputo che nerone sta vivendo il suo amore felice con atte il suicidio di ottavia porterà poi alla morte di britannico che per vendicare la sorella tenterà una sollevazione contro nerone e per evitare ciò verrà avvelenato io già qua mi rifiuto di concentrarmi ulteriormente perché ragazzi questa è una fiction troppo fiction troppo per i miei gusti scusate per il resto vi avevo già introdotto questa biografia di liliana madeo che mi è stata una fonte utilissima per la realizzazione di questo video più che una biografia è quasi un romanzo un romanzo che però si basa su tentativi della scrittrice di analizzare bene il la vicenda complessa di quegli di questi dell'epoca in cui ha vissuto ottavia specifica quali sono le sue narrazioni più arbitrarie le basa comunque su ipotesi concrete su dati storiografici alla mano e e fonti precise e tramite questo fa anche un excursus sul ruolo della donna la donna romana nel campo lavorativo quindi la donna come lavoratrice indipendente l'immagine dei nuovi culti che sorgevano quindi anche quanto la società stava cambiando e quanto c'erano molti che si ponevano dubbi filosofici o religiosi sull'esistenza e quant'altro cosa che comunque ottavia deve aver potuto affrontare perché è impossibile che lei abbia fatto una vita da reclusa per 22 anni di vita e viene anche ben dipinta la figura di agrippina agrippina che qua surge quasi a coprotagonista ed emerge il suo ritratto più uno dei ritrati più completi che mi sia mai capitato di di vedere su di lei aspettando io ovviamente sto aspettando di leggere una biografia completa su agrippina minore conto magari di dedicarmi in seguito a un approfondimento anche sulla sua figura e di base quindi io ve lo consiglio di cuore magari qualcuno potrebbe ritenerlo più un saggio romanzato più che una biografia però ragazzi io ve lo consiglio perché veramente a parte il fatto che è scritto bene ma è anche molto interessante proprio per l'analisi mi ha fatto scoprire certi aspetti della vita dell'antica roma che io personalmente non conoscevo quindi potete prenderlo magari come un approfondimento ulteriore se siete appassionati di di quest'epoca e magari non leggetelo come una biografia ma come un romanzo verità ecco se quindi se siete fortunati da trovarlo di beccarlo su ebay su all'ibs su libraccio magari usato sulle bancarelle fateci un pensiero io ve lo consiglio di cuore veramente bene ragazzi mi sono trattenuto oltre caspito ragazzi mi è venuto un video lunghissimo penso che questo sia uno dei video più lunghi che mi sia mai capitato di fare ma come avete detto la vicenda era complessissima veramente complessa e c'era tanto da sviscerare tanto da dire mi sono anche mantenuto molto per quanto ho potuto e niente chiudo qua il video perché dovrei correre a pranzare quindi il video si conclude qui spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra se anche voi conoscevate la figura di ottavia se vi eravate mai soffermati su di lei poi cosa ne pensate su la figura di nerone io ovviamente come vi ho detto abbraccio molto la teoria gestita dalla nella biografia scritta da massimo fini che pure vi consiglio ovvero di nerone con un personaggio che andrebbe rielabori che andrebbe riletto sotto una luce più benevola per molti aspetti ma ovviamente non è che debba essere trasformato in un santo perché i suoi crimini li ha obiettivamente commessi e niente ditemi anche la vostra su nerone cosa ne pensate iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao